bello a tutti ragazzi sono carmi special oggi vi porto come vedete al titolo un zoo warlock un fortu legend però vi porto solo alcune partite e qui vi mostro le statistiche del tech la lista vi lascio quella di tempo storm in descrizione ho anche un link in descrizione trovate anche il link della pagina facebook con la qual è fondamentale potete contattare in cui anche carico pezzoni o cose carine magari che non posso caricare direttamente sul canale guardatelo tutto il video perché la parte finale è quella migliore spero il video vi piaccia buona visione ciao 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 ciao